Buongiorno, mi chiamo Alessia Offredi, sono una psicologa psicoterapeuta cognitivo comportamentale. Faccio parte dell'equipe della Clinica Italiana di Psicoterapia, centro per i disturbi di personalità che ha sede a Modena. All'interno del centro mi occupo insieme alla dottoressa Gemelli della conduzione di gruppi rivolti ai familiari dei nostri pazienti, mentre invece con la dottoressa Giuri conduciamo un gruppo di terapia metacognitiva basato sul modello di Adrian Wells. Il gruppo di terapia metacognitiva si tiene una volta alla settimana e ha lo scopo di modificare stili di pensiero disfunzionali come rimucinio e ruminazione, che la letteratura ha dimostrato essere dei fattori di mantenimento rispetto ad alcune problematiche legate ad ansia e depressione. Il primo obiettivo è quindi quello di concettualizzare, di capire meglio come si presentano questi stili di pensiero, ma soprattutto quali sono le credenze che mantengono il loro utilizzo. Secondariamente vengono proposti alcuni esercizi vuoti proprio ad arginare questo stile di pensiero a favore di modalità cognitive maggiormente funzionali, quindi pensieri per esempio orientati al problem solving. Infine stabiliremo quali credenze possono favorire l'utilizzo di modalità cognitive maggiormente adattive al fine di generalizzare e mantenere nel tempo i risultati raggiunti.